Nonostante le voci di una prossima chiusura, l'ambulatorio di diabetologia dell'ospedale Santissimo Rosario di Venafro resterà operativo. A darcene notizia il responsabile medico di quel presidio, dottor Bartolomeo Cantelmo. Ospedale Santissimo Rosario di Venafro, l'ambulatorio di diabetologia a rischio chiusura. Questa indiscrezione riguardo la prossima cessazione dell'operatività di quel presidio preoccupa i non pochi assistiti nel percorso di gestione della insidiosa malattia cronica. In realtà i circa 1.500 utenti possono ora tirare un respiro di sollievo. La rassicurazione sul mantenimento del servizio arriva da uno dei responsabili di quell'ambulatorio che annuncia l'imminente pubblicazione da parte dei vertici ASREM di un dispositivo che consentirà la permanenza di diabetologia nel nosocomio venafrano. Si è passata questa voce in questo periodo in cui si passava che tutto l'ospedale potesse aiutare e quindi veniva coinvolto anche i servizi come all'ambulatorio, ma assolutamente non mi risulta. Anzi posso aggiungere, lo dico con cognizione, in quanto ho parlato con il direttore Sosto nell'ultima occasione che c'è stata a Venafro in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di riabilitazione. Abbiamo parlato lungamente e c'è la volontà aziendale sicuramente quantomeno di mantenerlo, ma anche di potenziarlo. Quindi sono tranquillo da questo punto di vista e posso rassicurare tutti gli utenti, tanti utenti, venafrani, del circondario, ma anche di segni che vengono, scelgono Venafro per le loro necessità diabetologiche. Un'altra funzione importante è quella della distribuzione dei presidi, anche questa verrà salvaguardata. Sarebbe auspicabile che rimanga tutto come sta, con la distribuzione penso che fa contenuto tutti. Se riusciamo a rimediare un infermiere, aumentiamo gli orari per l'apertura pubblica, adesso sono ridotti a due giornate di mattina e due di pomeriggio, perché l'utenza sono almeno 1.500 utenti che vengono a ritirare quotidianamente, quindi per rendere un accesso più facile un altro giorno si può sicuramente avere diapertura.